Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro nuovo appuntamento informativo che si apre con la delicata pagina della immigrazione. Perché un po' a sorpresa, ma era nell'aria nelle ultime giornate, è arrivato in queste ore a Bologna il ministro Piantedosi, ex prefetto della città Felsinia. Ecco le immagini del suo arrivo dopo aver lasciato l'autovettura. Si dirige, dicevamo, in prefettura a Bologna per un vertice proprio sul tema dell'immigrazione. Al centro del dibattito di queste ore la richiesta da parte del governo appunto di installare un CPR, il centro per il rimpatto e la detenzione amministrativa proprio a Bologna. Una di quelle strutture per la gestione dell'emergenza contenuta appunto nell'ultimo provvedimento del governo Meloni. A questa richiesta ricorderete c'era stata una sollevata di scudi da parte di molti presidenti regionali, in testa quello dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che aveva chiusato, non se ne parla nemmeno, sarebbe meglio appunto che il governo desse più fondi alle prefetture per la gestione dell'immigrazione. Insomma, le posizioni sono abbastanza distanti, almeno nel preambolo di questo incontro, anche se Bonaccini aveva ultimamente cercato di distendere gli anni mio con il prefetto, l'allora prefetto Piantedosi mi ero sempre trovato bene, quindi cercheremo un accordo, le ultime parole alla vigilia. Ecco, dicevamo, le immagini dell'arrivo del ministro in prefettura Bologna, in queste ore c'è il vertice, naturalmente quello che sarà deciso, se qualcosa di concreto sarà deciso, sarà oggetto delle nostre prossime informazioni nel corso dei telegiornali. Ora cambiamo argomento, restiamo in qualche modo in crona che andiamo a Budrio, perché 12 operatori sociosanitari che lavorano in una struttura di recupero di disabili fisici e psichici sono stati colpiti da una misura interdittiva della professione per un anno con una pesante accusa mossa dal PM Emanuela Cavallo che ha fatto entrare in azione i Carabinieri di Molinelli. L'accusa è quella di avere maltrattato appunto gli ospiti di questa struttura, si è arrivati a queste accuse attraverso delle intercettazioni audio e video. Ci riassume però il tutto ai microfoni di Riccardo Borsari, il comandante dei NAS. Nel gennaio di quest'anno, un'indagine quindi anche peculiare che è arrivato appunto a un risultato. Ma se l'indagine parte da lontano ed è stata possibile grazie sia a una segnalazione di un privato cittadino sia per l'intervento tempestivo dell'arma territoriale della compagnia di Molinella e si è sviluppata in parecchi mesi perché era necessario raccogliere tutti quegli elementi che supportassero quella che era l'ipotesi investigativa, quindi abbastanza articolata. Gli episodi erano di varia natura, alcune volte di natura fisica con strattonamenti, schiaffi e spintoni, in alcuni casi erano di natura psicologica con offese ripetute e anche minacce di essere portati in locali della struttura che non venivano utilizzati o al di fuori della struttura stessa, al freddo. Ci spiega il primo episodio, quello che ha dato il via all'indagine? Il primo episodio è stato la segnalazione di una persona che, filmando anche l'episodio stesso e consegnando alle carabinieri Molinella, mostrava una donna che spingeva una carrozzina e che prendeva a schiaffi il soggetto che era sopra la carrozzina. Un episodio che ci è stato prontamente riferito, è stato immortalato tramite un telefonino e che ci ha dato la possibilità poi di sviluppare gli accertamenti che hanno portato alla conclusione dell'indagine. Ne parleremo anche in questo caso in modo più approfondito nel corso dei nostri prossimi telegiornali. Restiamo in cronaca perché un marocchino è stato arrestato per tentato omicidio ai danni di un connazionale ai Giardini Margherita di Bologna. Un quarantenne marocchino è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a Bologna con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un connazionale. La vittima, 40 anni, si trovava vicino alle serre dei Giardini Margherita e stava guardando il cellulare quando l'aggressore lo ha colpito con un coltello. Nel tentativo di scappare l'uomo è stato ferito alla schiena e poi l'aggressore è fuggito lasciando cadere la lama. Sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri mentre tre testimoni che hanno assistito alla scena hanno inseguito il fuggitivo, due a piedi e uno a bordo del suo scooter e nel frattempo hanno contattato il 113. Uno dei testimoni ha pedinato il marocchino per tutta via Santo Stefano comunicando la sua posizione agli agenti fino a quando l'aggressore non si è nascosto in un bidone dell'immondizia in via Zamboni. È proprio qui che i poliziotti lo hanno bloccato e arrestato. Nel frattempo la vittima, che è risultata destinataria di un ordine di carcerazione, è stata portata all'ospedale Maggiore in codice 2 in media gravità. L'arrestato ora si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Fondamentale e indispensabile è stato l'intervento del cittadino che ha deciso e ha voluto seguire questo soggetto che aveva appena aggredito un altro soggetto per tutto il tratto da via Castiglione fino a dove l'abbiamo trovato in via Zamboni e non ha desistito nonostante il soggetto si sia mostrato anche più volte aggressivo nei suoi riguardi. Quindi è assolutamente fondamentale. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, conoscevano perfettamente le vie, la strada, le strade dove è avvenuto il fatto. Quindi hanno chiuso le strade, hanno chiuso la via di fuga e sono riusciti a fermare il soggetto tempestivamente e con la massima professionalità. Presumibilmente è una linea tra i due che già si conoscevano, l'uno ha aggredito l'altro e quando sono stati poi divisi l'altro si è dato alla fuga dopo averlo accoltellato. Apriamo la pagina della viabilità in tutte le sue diverse sfaccettature. Pochi giorni fa, vi ricorderete, abbiamo mostrato l'intervista a un tecnico dell'ente Città Metropolitana che sintetizziamo e in qualche modo diceva che le bucche rallentavano anche la corsa degli automobilisti. C'è il mantra appunto di andare sempre più piano. Lo stesso poi aveva precisato le sue uscite. Oggi arriva da parte dell'ente locale Città Metropolitana una ulteriore precisazione alle parole del tecnico. È ormai un caso quello scoppiato a proposito delle buche nelle strade. Caso scoppiato in seguito alle dichiarazioni di un dirigente della Città Metropolitana che aveva alluso al fatto che lasciando le buche per strada, senza cioè ripararle, gli automobilisti sarebbero andati più piano e la viabilità sarebbe stata meno pericolosa. Dichiarazioni su cui aveva chiesto ieri chiarimenti al Sindaco Lepore anche il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che le ha definite distoniche rispetto alla basilare esigenza di mantenere la sicurezza delle infrastrutture stradali. Oggi la stessa Città Metropolitana risponde a mezzo stampa spiegando che la riflessione del dirigente Maurizio Martelli è stata fraintesa. Riparare le buche sulle strade provinciali, tanto più dopo i gravi danni provocati dal maltempo e dalle alluvioni di maggio, è una priorità della Città Metropolitana, si legge nel comunicato, perché buche e avvallamenti creano disagio e rappresentano un pericolo per gli utenti della strada. E lo dimostrano i numeri, prosegue la nota. Abbiamo da poco concluso lavori per 6 milioni di euro per la sola manutenzione straordinaria delle buche e nei prossimi giorni è prevista la firma dei contratti attuativi per oltre 18 milioni di euro per asfaltature. Abbiamo inoltre 30 cantieri attivi sulle strade di nostra competenza con un investimento inedito di 20 milioni di euro. Come dimostra l'impegno sintetizzato in questi numeri, la riflessione del dirigente Martelli è stata evidentemente fraintesa, conclude la Città Metropolitana. E si accende anche a Bologna il dibattito sul nuovo codice della strada che dovrebbe entrare in vigore il prossimo dicembre. Ci sono molte novità, ma ci sarebbe, secondo il Presidente dell'Osservatorio di Sicurezza Stradale, Mauro Sorbi, anche un grande assente, ovvero l'obbligo di casco per i ciclisti. Mauro Sorbi, Presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione e la sicurezza stradale, nuovo codice della strada, le novità che secondo lei sono importanti e da evidenziare? La prima è quella che riguarda la distrazione. Sono state praticamente appesantita, è stata appesantita la prima sanzione, diciamo, in cui si viene trovata al cellulare, praticamente sono 1700 euro, quindi passiamo dai 165 ai 1700 euro per la prima volta. La prima volta verrà anche sospesa la patente, da uno a due mesi, la seconda volta nel biegno, da due a tre mesi con 2700 di multa, 2700 euro. Quindi è un appesantimento che ci vuole. Sulla velocità sono state appesantite, diciamo, sono state triplicate le multe sull'eccesso di velocità, e poi si è andati praticamente sul problema alcolemico che tocca veramente tantissimi incidenti e anche qui c'è una novità molto grande. La prima sanzione ci obbliga ad andare per i prossimi due anni a zero. Se invece si è trovati recidivi, si deve montare a proprie spese quel famoso dispositivo di cui tanto se ne parla, che è l'alcool lock, che non permette l'avvio del motore al veicolo che abbiamo. Poi parliamo di mobilità elettrica in monopattini, quindi casco, assicurazione e targhetta identificativa. Delicatissimo è il problema che ha proposto Lanci nei centri abitati di 1.084 euro se uno viene trovato praticamente ad una valorizzata superiore quella disposta dagli enti proprietari, cioè dai comuni, e la sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Senta, invece per i ciclisti sarà obbligatorio quindi il casco? No, assolutamente. Non ho notizia di questo. Il decreto legge non parla assolutamente di casco per i ciclisti, ma ci sono tante belle novità. Il traffico non si rallenta. Solo col limite dei 30 porta a Castiglione, ad esempio c'è il famoso semaforo più lungo della città, o quasi, con gli automobilisti in paziente interminabile sosta, a tal punto che abbiamo fatto un esperimento con Giorgio Comaschi per ammazzare l'attesa addirittura a quel semaforo ci si può far sopra anche una grigliata. Siamo a Porta Castiglione, facciamo una gogliardata, la grigliata del semaforo di Porta Castiglione, ma non per dire e accusare niente nessuno, è che dura talmente tanto il rosso che si può fare una grigliata. In ogni piattino mettiamo un paninino, una salsiccia e il tovagliolino e lo diamo alle macchine. Qui, qui. Allora, prepariamo i piattini. Ora, i piatti, uno te lo do a te. Aspetta, qua mettiamoci una salsiccia e un tovagliolino. Arrivo con la grigliata. Quando siamo pronti, aspettiamo il rosso e andiamo dentro. Allora, aspetta, piattini, piattini, uno io. Attenzione. Via, via. Grigliata di Porta Castiglione. Vieni con la griglia, vieni con la griglia. Berna. Ecco, grigliata di Porta Castiglione del semaforo. La grigliata, c'è la salsiccia. A quest'ora, però, ha visto, perché tanto dura un'ora, un'ora e mezza il semaforo, quindi possiamo andare, no? Salsiccia per la grigliata? Grigliata. Ecco, guarda, guarda, guarda. Che mangia la salsiccia. Fantastico, fantastico. Mangia la salsiccia. Fantastico. Insomma, l'operazione grigliata. Vuole una salsiccia? Abbiamo spento il fuoco, perfetto. Sono arrivati i vigili, ovviamente e giustamente, perché non si può. Abbiamo fatto la gogliardata, abbiamo messo una griglietta lì per fare la grigliata del semaforo di Porta Castiglione. I vigili poi alla fine hanno capito, sono stati elastici perché sono dei grandi, ma sono venuti ed è giusto che siano venuti. I vigili alla fine hanno anche declinato l'invito a mangiare una salsiccia perché non si mangia in servizio. Comunque, lo suo esperimento al semaforo di Porta Castiglione sarà il centro della puntata, la bottega di Comaschi, il prossimo lunedì 25 settembre, prima del nostro telegiornale delle 13 e 20. Cambiamo di nuovo pagina, 10 anni della società Bologna, servizi cimiteriali che gestisce tra gli altri la certosa di Bologna. D'accordo, il cimitero è il luogo del caore istinto, ma di fatto riguarda per lo più chi ancora non ci è andato a finire. Così si giustifica la torta celebrativa a beneficio del palato dei viventi, ma non solo. L'occasione infatti è stata anche una cerimonia, usare la parola festa al Camposanto potrebbe apparire inappropriato, per i 10 anni di Bologna Servizi Cimiteriali, la società che amministra la certosa tra i cimiteri monumentali più belli d'Europa, ma anche i cimiteri di Borgo Panigale, Sant'Agata e Danzola. Una cerimonia che ha visto un momento culturale con l'impeccabile tour, guidato da Roberto Martorelli, un concerto di archi e un rinfresco con ogni ben di Dio. È un punto d'arrivo perché effettivamente abbiamo superato tutte le difficoltà iniziali, i numerosi cantieri, le difficoltà economiche. L'affrontare la pandemia, che è stata veramente difficile, però non ci siamo mai fermati. C'è stata tanta progettazione, tanto lavoro corale e questo ci ha permesso di avere degli ottimi risultati da un punto di vista economico, ma questo ci permette di fare investimenti. Siamo partiti con l'obitorio qualificato, abbiamo fatto l'investimento della terza linea per l'impianto di cremazione, tanti progetti sono in previsione. Se devo fare un bilancio, lo faccio come di tutto per, come dire, umano. Questa è una società di valore, una società nella quale tutti quanti sono impegnati perché hanno un'altra considerazione del lavoro che fanno, è un altro senso del dovere rispetto alla cosa pubblica. Con questo servizio si chiude il nostro TG, appuntamento con tanti aggiornamenti ai nostri prossimi telegiornali. Grazie, naturalmente, come sempre, di averci seguito. E-TV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.